Mimì, pazza, Mimì è un... Non me lo spiega, è stato tranquillo Eh no, io sono impaziente, impaziente Mimì è un giovane ragazzo cresciuto al sud dopo una storia d'amore, forse la sua unica storia più importante si lascia con questa donna e si rifugia nella chiesa ma non lo fa fisicamente, bensì spiritualmente, praticamente si fa prevedo è un amico tuo? no non ci pensavo no, infatti dopo anni di militanza, di cerimonie, di roba insomma della chiesa ironia della sorte, gli viene assegnata la chiesa del suo paese quindi torna dal nord, che faceva insomma questa roba qui torna giù e quindi nel suo paese deve ribeccare di nuovo tutta la gente che conosceva tra cui anche questa Carmela, questa donna amata e quindi si trova davanti a un bibio, davanti a una scelta per favore silenzio mi guai sono le ragazze quelle della chiesa si trova davanti a questo bibio, quindi davanti a questa scelta vediamo insieme aspetta un attimo apprezziamo con questi pochi no no, non ti preoccupare, guarda e se la torna c'è una casa che è sempre così di solito è peggio no Mariella vuoi dire qualcosa? tu conosci Mariella, la compagna di Paolo Germano? no, piacere no, dicevo che è un film questo, questo è una sceneggiatura una sceneggiatura di un film ma quello che abbiamo fatto è questo? no, questo no, dopo lo devi nemmeno sentire ma come lo stai raccontando è molto preciso lei è molto polemica, scusami vai ok, alla fine alla fine vediamo insieme grazie, grazie mille alla fine vediamo insieme la scelta di Don Mimì di questo Don Mimì ok, ok sono tornato qui questo è il paese che mi ha visto crescere adesso un ruolo più importante dico la messa alla gente all'improvviso sei arrivato tu a confessare un tipo il figlio del sergente ma non mi vanno a chiedermi un giorno bello di settembre sul mio ortale per il sì come faccio adesso a dirti no? se indosso quest'abito è perché ho amato te volevo te, soltanto te non chiedermi il perché di te, di me che cosa resterà di noi? caro me soltanto il suono bello di queste campane che arrivava fino al mare dove per la prima volta ti faccio riso di amare alci caro me fammi cominciare adesso fino a me perché padre nostro i venticinque mia Maria esci dalla vita mia sei l'odore del passato del presente sei peccato fiori di lilla il tappeto rosso e la navata pompa su livella è poco indifferente nessun dovrà capire niente ti scopre il viso e sei qui di fronte a me triste più triste di questo organo che torna un nome iconico Schubert con gli occhi lucidi e l'altra chiusa e devi devi dargli un sì questo matrimonio sa da fare servono due lettere per farmi terminare cosa aspetti? cosa aspetti? a dimenticare di te e di me non resterà nulla di noi caro me soltanto il suono bello di queste campane che arrivava fino al mare come per la prima volta ti faceresti amare sempre a me ammo che sono queste lacrime io ti prometto che nell'altra prossima vita non ti lascerò mai andare però adesso apri la porta te ne devi uscire te ne devi uscire te ne devi uscire te ne devi uscire bravo, 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 bravo grazie grazie, grazie mille grazie, grazie mille